buona domenica a tutti per quanto possibile buona domenica a tutti ragazzi oggi scopriamo e scopriamo col video perché il pomeriggio altrimenti si perde tutto quanto si perde tutto ed è peggio ed è peggio il risveglio di ieri ed è peggio sono gli ennesimi due punti persi di una di una stagione che io non so come potrebbe finire sta stagione come potrà finire sta stagione veramente se uno me lo dicesse adesso io direi no non lo so se finisce così perché siamo capaci veramente di ogni cosa il milan è capace di ogni cosa e io cioè veramente avrei preferito quasi non vincere a madrid se questi qua erano i risultati perché veramente quella di ieri è peggio di una sconfitta cioè io la vivo veramente peggio della sconfitta non non riesco a trovare nulla di positivo neanche forse il gol di leao ma i gol di leao poi alla fine ci portano un punto ci portano un punto solo contro il cagliari ragazzi vabbè insomma ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace visto che comunque domenica mattina io da lavoro loro riposano perché adesso c'è la pausa e via tutti liberi e siamo tornati punti a capo siamo tornati punti a capo la nostra euforia è durata da martedì sera fino a sabato sera passati tre giorni poi mi devo sentire dire ancora che questi qua sono stanchi ma dai ho sentito dire di che teo era stanco ma teo stanco di che cosa ma teo stanco di come fa ad essere stanco teo no perché ho sentito il sovraccarico di madrid potrebbe aver fatto la differenza ma cosa state cosa state dicendo sempre il solito tra l'altro quello che ha quasi più iscritti di tutti le milanistiche io veramente non riesco a capire come possa ancora parlare con certa gente non riesco proprio a capirlo a sentir a sentir dire certe minchiate ancora non riesco a capire come possa la gente veramente andare a seguire certi certi personaggi che poi vengono additati anche come stupidi e si offendono anche se li chiami stupidi si offendono anche partiamo dalla partita arriva come al solito sempre i soliti errori sembra sempre di guardare sempre il solito film sempre 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 il film della stagione di pioli il milan di pioli uguale uguale primi gol primo minuto stavolta stavamo riuscendo anche nell'impresa di fargli segnare addirittura prima che scattasse il minuto c'era il fuorigioco non mi interessa che c'era il fuorigioco c'era il fuorigioco non mi interessa niente perché tu ieri comunque cinque gol hai preso dal cagliari dal cagliari preso cinque gol hai preso dal cagliari cinque gol c'era il fuorigioco sì ci poteva anche essere non posso venire qua a lamentarmi di un fuorigioco non visto dalla var sì poi dopo potete dire quello che volete potete dire che comunque nell'epoca della var tutti quei check lì dovrebbero portare comunque all'allunamento del gol però ragazzi quello il risultato non cambia il risultato non cambia perché approccio sempre sbagliato e prendi gol nei primi minuti di era il primo minuto stessa identica cosa nei primi quando è arrivato il secondo gol nel 52esimo penso quindi sono passati sette minuti da quando inizia del secondo tempo quindi nonostante ciò arriva il gol al novantesimo quindi ragazzi è sempre la stessa è sempre la stessa identico film è uguale è la stessa identica roba niente di più niente di meno che altro aggiungere anzi questo ragazzi ce ne sarà molto da aggiungere visto che ce n'è molte di roba da dire ho sentito dopo fonseca le parole di fonseca molto incazzato questo sì però anche tu ieri caro mio ieri hai fatto certi di quei cambi va bene che hai messo abram per camarda non è che ci volesse un genio per mettere abram al posto di camarda ieri ve l'avevo detto io no che avrebbe fatto fatica camarda ragazzi da titolare non puoi lanciarlo titolare va bene hai avuto coraggio ma poi dopo se non vinci 3 4 a 0 queste partite poi dopo sulla graticola ci vai perché poi tra l'altro arriva abram e si segna appena è appena entrato quindi alt ad essere troppo euforici con le scelte che fa questo qua perché non è che adesso è diventato un genio quindi con calma i cambi che hai fatto ieri in utili che ti vai ad incazzare poi su teo possiamo aprire un discorso particolare perché ogni volta che gli arriva un cross da dietro lui fa finta di saltare si ferma arriva quell'altro e segna e basta e basta anche teo basta basta guarda sta cazzo di palla fino all'ultimo non farlo andare via perché dietro c'è sempre qualcuno dietro c'è sempre qualcuno e col torino e col parma e con la lazio sto pensando a quelli che mi vengono in mente poi ce ne sono ieri sera ragazzi ce ne sono tanti con la fiorentina non mi ricordo adesso in questo momento i gol come sono arrivati un errore di tumori e sulla sull'azione della rimessa tra le non c'entra niente però è più di una più di una volta che festi errori qua basta e ti avevano detto pure come difensore centrale si è spostato è diventato bravo capito ma inizia a fare il difensore che fai tu c'è il terzino sinistro poi che vai in avanti e sei un cannone lo sappiamo ma poi ieri abbiamo preso due gol per colpa tua per colpa tua l'abbiamo preso due gol e rischiavi anche di essere espulso ancora anche ieri e basta adesso ma basta anche per te gli albi stanno iniziando a finire minchia poi vabbè lasciando stare pavlovici ragazzi pavlovici a me poi si ostina sempre a giocare con sta difesa alta e c'hai due che sono se li metti insieme hanno la velocità che ha tu mori ciao e pavlovici non sono due difensori veloci siamo d'accordo su questo penso no no lui mette pavlovici mette ciao a difesa alta a difesa sempre a centrocampo c'è ma ma quando lo vuoi capire pure tu ieri c'hai tanto hai avuto ragione anche essere tra virgolette non ha fatto il nome di teo poi gli hanno fatto la domanda ma la colpa è un po più di teo lui ha detto si potrebbe fare meglio dal punto di vista dei singoli si potrebbe fare meglio e lui potrebbe difendere meglio l'ho anche detto però le colpe ce le hai anche tu perché se fai sempre i suoi errori mi togli pulisic mi togli leao e vabbè lasciando stare emerson royale ha fatto il triplo campo pulisic leao e emerson royale per mettere musato mori o cafor ma non dico tanto ma uno tra pulisic leao lo devi lasciare uno tra pulisic leao forse ieri ieri leao doveva stare in campo perché adesso c'è la pausa c'è anche che li fai fare dieci minuti più cosa cambia cosa cambia di preciso cosa cambia tu gli hai dato la l'input a zappa ha detto non c'ho più leao l'ho detto anche ieri nel video non c'ho più leao da curare prendo vado in avanti e chi ti fa gol zappa ti fa gol zappa quel gol lì non c'è tu metti un difensore in più che non è servito a nulla perché prendi il gol nella stessa identica maniera che avevi preso il mi pare di ricordare il gol annullato sì c'è non è cambiato niente non è cambiato niente io non riesco a capire le stesse situazioni veramente non poi dopo il secondo voglia l'abbiamo regalato noi perché l'assist di fofana ma adesso non vogliamo mettere in croce fofana però lì ragazzi c'è mia tua cioè si dicono ste robe si dicono nei campetti sotto casa mia cinisello mia tua poi parlato in due lingue diverse grida fai qualcosa fischia fai qualcosa ma quel gol lì non si possono prendere poi con lì non si possono prendere poi tra l'altro ieri ha fatto miracoli su miracoli magnan hai preso cinque gol miracoli magnan il cagliari ragazzi il cagliari era uno dei peggiori attacchi che c'è nel campionato ma tu gli hai fatto fare il bello e cattivo tempo tranquilli tranquilli ora adesso siamo settimi in campionato il quarto posto si inizia ad allontanarsi siamo quasi a metà novembre poi c'è un'altra pausa abbiamo passato quella con la lazio del cooling break prima ancora c'è stata quella mi pare col no il cooling break con la fiorentina una sconfitta e adesso questa qua che è uguale a una sconfitta cioè praticamente tre sconfitte su prima delle tre pause e non si può andare avanti così ragazzi non si può andare avanti così perché che tu vai a vincere con real madrid bello bellissimo ma io già il giorno dopo beh rimane è perché rimane per carità ma se poi dopo ve l'avevo detto se andate a cagliari a fare ste figure di merda è come se non fosse servito a niente ci avrei preferito veramente che le partite si fossero invertite aver fatto 3 a 3 madrid e vincere 3 a 1 ieri avrei preferito ve lo dico già mi dico così io guardate cosa mi arrivo a dire avrei preferito fare questo fare 3 a 3 a madrid e vincere 3 a 1 ieri no e invece no poi boh non so cos'altro aggiungere chi entra dalla panchina non aggiunge niente anzi forse toglie forse toglie ocaforo è entrato malissimo abram ok ha segnato va bene se non segnava manco quello visto che con l'udinese abbiamo visto quello che si è mangiato ragazzi è una stagione veramente complicata ma complicata in campionato sarà veramente complicato arrivare nei primi 4 per me è impossibile a questo punto perché se vai a vincere il derby per esempio e pareggiare pareggi col cagliari perdi col parma perdi la prima col torino cioè non si va da nessuna parte così cioè quest'anno veramente rischiamo di fare il campionato che ha fatto il napoli l'anno scorso con la differenza che loro c'avevano uno scudetto sul petto quindi un alibi ce l'avevano noi no noi no noi siamo arrivati secondi e lasciando perdere tutto quello che è successo l'anno scorso cioè non mi sembra cambiato niente mi sembra veramente delle volte che l'allenatore non si è cambiato perché comunque i tre gol in avanti li fai sempre ma li prendi sempre tre e non possiamo andare avanti sempre a tre gol a partita su fatti e tre gol a partita subiti cioè sta squadra qua non deve pensare di poter fare un gol in più dell'avversario senza senza fase difensiva senza la fase difensiva poi teo rinandez di ieri inguardabile emerson royale quel che l'è ciao le quel che l'è e pavlovic ragazzi siamo di fronte veramente una difesa molto 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 non vorrei dire scarsa ma quella di ieri è così è quella di ieri è veramente qualcosa di inguardabile ed incommentabile che altro aggiungere niente non si può aggiungere niente fonseca si incazza i cambi gli sbagli lo stesso c'è comunque un atteggiamento che non mi piace non mi piace perché siamo saliti troppo velocemente sul piedistallo e ci può stare perché vinci correa madrid già mi sono mi suona strano anche ancora dirla sta frase come è vinto correa madrid ma dopo quattro giorni fai sta prestazione qua io sono tornato peggio di prima sono tornato peggio di prima cioè non ha avuto praticamente senso aver vinto a madrid in quel modo non ha avuto senso e questa è la domenica questa è la domenica l'ennesima pausa adesso se adesso tutte queste due settimane si parlerà delle delle complicazioni magari qualche non lo so qualche scontro che si è avuto nello spogliatoio perché io fonseca ieri sera l'ho visto veramente incazzato e secondo me con ternandez è incazzato veramente tanto con ternandez e ci sta ragazzi ci sta perché ternandez sa benissimo che se non gioca lui gioca terracciano e ci sono delle volte che ha degli atteggiamenti che proprio danno fastidio io che lo amo alla follia mi urta veramente il ternandez di ieri mi urta il peggiore in campo assolutamente cioè se il migliore in campo è a parte leao il migliore in campo è ma i gnan c'è un problema esiste un problema esiste veramente poi ieri torna a golle auto fa una partita da campione ieri perché fa doppietta incisivo cattivo torna anche indietro da una mano leader quasi vorrei dire fa due gol meravigliosi uno sull'assist di renders veramente che avrei voluto praticarmi auto erotismo quando ho visto quel passaggio di renders però è tutto passa in secondo piano tutto passa assolutamente in secondo piano gli ennesimi due punti buttati fatemi sapere voi cosa ne pensate ragazzi vi auguro una buona domenica adesso sta pausa qua io adesso dovrò venire qua a fare sempre video sfogo quasi quasi video sfogo sempre e non c'ho voglia non c'ho voglia mi dovrò inventare qualcos'altro va bene non ho più parole ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un bel like vi auguro una buona domenica ciao a tutti